Benvenuti in questo video, oggi siamo sull'episodio 10 di GTA V Andiamo subito ad iniziare Ok ragazzi, dobbiamo rubare e consegnare almeno un furgone dei tre che stanno qui alla Backstars Quindi noi dobbiamo, visto che ci vedo là un po' di gente, penso che dobbiamo ammazzare tutti quanti Proprio il mal modo Quindi cominciamo subito a ammazzarne uno Ah no, ma mi sparano Ah, allora andiamo, allora andiamo, allora andiamo Via, 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 via Pensavo che mi sparavano, raga, pensavo che devo ammazzarli tutti Invece no, è soltanto scattato l'allarme e muoio tutta la polizia del mondo Mi semina gli sbirri, va bene Col furgone, voglio vedere, mi semina gli sbirri Ahia, porca troia, ecco, già stanno qua davanti Ma porca troia, scappiamo, via No, ci sono qua davanti, vedo un cazzo, no No, che brutta cosa, che brutta Ah, ecco, si è rotto Si è rotto Ragazzi, si è rotto il furgone Non ci credo mai Non ci voglio credere mai, mi si è rotto il furgone e non la prende un altro Ma che palle Ma che cazzo Mi stanno sparando sul culo Ahia, scappiamo, via, via, via Ci stanno a correre dietro, ci stanno Qui fucile a pompa stanno Dobbiamo muoverci, veramente sbrigarci Mettiamoci in prima persona Mettiti in prima persona Che sta, sta, sta morto, ma che cazzo Vai, via, andiamo, 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 andiamo Scappiamo via, scappiamo via Oh, oh, finta Attenzione, e se ne va, e se ne va Abbiamo pochissima vita Ok, magari contro mano no, eh Magari andiamo sull'altra colzia che è meglio Ah, c'è passo, c'è passo Ok Ok, adesso andiamo a fuggire malissimo Abbiamo tre stelle È vero, abbiamo ammazzato la polizia Abbiamo, è vero, abbiamo sparte colciotti Adesso abbiamo tre stelle E abbiamo l'elicottero sopra la testa Bellissimo E non credo di riuscire a fare questa missione Così, ve lo dico sinceramente, eh, raga Io ve lo dico Avverto prima Ci inseguono malissimo, ragazzi Oppela È un casino, veramente è un casino Siamo anche contro mano Ok, scendiamo giù Scendiamo giù, la strada non è proprio sicura Per, per fuggire Sarà difficilissimo scappare, ragazzi Dovrei trovare le ferrovie Con le ferrovie si scappa facilmente Anche con l'elicottero Perché troviamo le gallerie I tunnel E cazzate vaghe Aia Bam Sono a passare di qua Facciamoci tutti i piccoli E qua non ci passiamo mai Non ci passiamo E adesso ci chiudono Dai, dai, che siamo usciti Si sono dobbati pure loro Ma come cazzo hanno fatto Non possiamo andare al pain spray Per seminarli Non si può fare qui Oh, porca troia Proviamo a rimanarciare qua sotto Che sopra c'abbiamo l'elicottero Facciamolo passare Abbiamo l'elicottero sopra la testa, praticamente E dobbiamo anche andarcene Velocemente Allora, l'elicottero è cazzo Coglione No, no, stanno arrivando Stanno arrivando Stanno arrivando Stanno arrivando Stanno arrivando Via, 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 via Dall'altra parte Che dall'altra parte Corri Corri, corri Maledetto Un gole di merda Corri Si Ce l'abbiamo fatta ragazzi Ce l'abbiamo seminati Che bello Non pensavo di riuscirci ragazzi Sinceramente Ma ce l'abbiamo fatta Ok Il parcheggio al solito posto Sempre di qua Perfetto Abbiamo consigliato Il nostro camioncino Qui, bello, bello Ok ragazzi Adesso possiamo andare a fare La rapina Now we all know why we're here We've got a store to take The plan is simple Elegant Listen to Lester Pay attention to the information he gives you And we'll all make a buck Things go bad You know the drill This wasn't organized We don't know each other We got caught up in a robbery And acted in self-defense But it's not gonna be an issue Because everything's gonna go just fine The alarm system is easy Now if I didn't need to be running things I could have it offline myself No problem But you should be able to get us a pretty decent window So how decent Depends on the job you do Now once it's down You signal Michael He makes the call Things look good We should be able to drop a present Right through the air vent on the roof Everybody goes to sleep No problem We take our time If we run into trouble We move quickly And with force Any questions? No? Let's go Okay guys Come promesso Vi faccio vedere i Gatzin Perché Avete detto che non dovrebbe dar problemi A vedere i Gatzin Quindi Perché no Li lascio Okay Stiamo andando a fare la rapina Ci stiamo portando Franklin Sì Stiamo portando Franklin E parte qui la prima rapina del gioco ragazzi Parte qui la prima rapina Okay ragazzi Siamo quasi arrivati alla gioielleria dell'altra volta Dove siamo andati a fare il sopralluogo Quindi adesso andiamo a rapinarla proprio Perché noi siamo cattivi Siamo gente cattiva Okay Questo è il cantiere Dove siamo andati a fare le foto Nel nono episodio Mi pare O lo stavo Okay Adesso dobbiamo salire sopra Mettiamo l'episodio Ok Adesso siamo Franklin Dobbiamo raggiungere il tetto Va bene andiamo Ok siamo sul tetto Dovremmo andare a buttare adesso La bomba a gas Dai Condotti da reazione Così che tutti quelli che stanno Entruggire le chiese E addormentino Quindi andiamo a vedere come procedere Intanto arriviamo al posto Che non è proprio semplice Meglio Do sta Dai mi affassa di cazzo Ok Ok saliamo Eccoci qua Teniamo un mototab Usa per selezionare il gas Dove è il gas Gas e il BZ Ti ho dovuto buttare E lanciare il gas Dove devo Ok devo buttare là dentro Dobbiamo dire che siamo a fare 100 ragazzi No Male Male Bam E' dentro Ok Adesso Ok vediamo un po' cosa succede dentro I just I wasn't thinking it was Think about it like this I mean I always say that I told them to fix that God damn AC What's going on? Let's go Ok Ok si sono addormentati tutti Noi possiamo entrare tranquillamente Ok Cominciamo a derubare tutto Quindi sbiliamoci però Possiamo renderci la comoda Guardate quanta roba stiamo prendendo Ragazzi stiamo facendo i soldoni veri 30 secondi ci rimangono ragazzi Siamo a 2 milioni Dai 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 Forza 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 Guardati Vai 3 milioni e 600 Mila Dai 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 4 milioni Manca poco Vai 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 Forza 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 Abbiamo preso tutto Abbiamo preso tutto Andiamoci 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 Ok Pam Via adesso dobbiamo andarcene via Scappare come Come delle salette Andiamo via Siamo con la moto Segui la squadra Ok Noi non so se abbiamo Franklin Ok abbiamo Franklin Perché abbiamo l'abilità Ok dobbiamo scappare Velocissimamente qui Perché gli altri Corrono più di me Che moto ando Perché gli altri hanno la moto più bella della mia Mettiamo più una persona Ragazzi ci casiamo Più una persona ci casiamo Devo seguire il resto della squadra Dove vanno Oddio Madommati questi Ok Ah no 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 Ho sbagliato Ok ok ci siamo Oh Bam Non vedo un cazzo Ok ok ragazzi Siamo dentro questo tunnel Siamo fuori dal tunnel Del divertimento Dai ragazzi dai ragazzi Che siamo così similati già Non è possibile Oh Bam Sul muro Ah no ragazzi Mi sono piccato Forza Chiomani sta moto Chiomani sta moto Veloce 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 Ok dove sono andati Dove sono andati Stanno scappando Senza di me Io i soldi vostri anche Ci sono ragazzi Ci sono Eccomi Andiamo Andiamo Forza Siamo 4 stelle Veramente Quanto è lungo sto tunnel Non finisce più Sì Siamo fuori Siamo fuori Oh no E' polizia che ci sta Ok adesso ci siamo mai Guardate il furgone Guardate il cover Dai dai cazzo Ok Andiamo più a verso Oddio Oddio Bam Ok dobbiamo Dobbiamo liberare il risultato del punto di contro Quindi Andiamoci di pistola E cominciamo a ammazzare le volanti Qua 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 No Mortacci vostro Perché cambia le strada così velocemente No Sta arrivando Poi Ok Dai ci siamo ragazzi Ci siamo Che abbiamo seminato Dai che ci abbiamo fatto Non ci insegna più nessuno Perfetto Ok Stanno tutti dentro E noi ce ne andiamo Come se niente fosse Quindi mettiamo qui la prima persona Adesso ci godiamo il panorama Del tramonto bello Guardate che tramonto regà È spettacolare È un po' bello Ok Siamo arrivati già Al nostro punto di Di aggiro Ok Eccosi qua Siamo quasi arrivati Abbiamo soltanto girato qui l'angolo Eccoci qua Devo marcheggiare di qua Perfetto All right people Ok ragazzi Finalmente abbiamo completato La nostra prima Rapina Alla gioielleria Colpo alla gioielleria Colpo completato Invio continua Ok ragazzi Io direi che per questo episodio Possiamo concludere qui Mi raccomando Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Un commento Se non lo siete iscriviti al canale Noi ci vediamo Come sempre Al prossimo episodio Fai se Bella